è tornato e non se ne sentiva esattamente la mancanza, ben ritrovati, come è stato un saluto a tutti, vi ricordo come sempre di commentare numerosi, lasciare un bel like, iscrivetevi da questa parte, attivate la campanella, parliamo di Cassano che opinionista ieri alla Rai, ne ha detto di tutti i colori, Leao pensa di essere un fenomeno ma ai miei tempi non poteva giocare neanche in squadra in lotta per il settimo posto, quindi non poteva giocare neanche, sarebbe stato uno da media bassa classifica no? Poi fa un po' di esempi, Varaschia fa un campionato meraviglioso facendo due fasi, Foden un anno in meno ha già fatto 21 gole e 10 assist, parliamo di cosa? Lui pensa di essere un fenomeno, c'è gente che li va dietro, è un buon giocatore che ha una gran forza fisica, finito, parliamo di un giocatore normale che ha la forza fisica, ha fatto 8 gol, che in realtà sono 12, ma per 5 mesi e mezzo non ha segnato in un campionato a farlocco, è rimasto fuori anche un mese per infortuni, dobbiamo ricordarci che nel campionato italiano non c'è qualità, non c'è intensità, non c'è ritmo, lui ha fatto 5 mesi e mezzo senza fare un gol, poi fa due giocate e ha forte e vale, guardate Lautaro, corre, lotta, si sacrifica, fa gol, fa assist, è leader, eccetera, eccetera, lo botca, quindi torna e spara a 0 su Rafa Leao, la cui stagione, nello specifico, sicuramente in quel periodo è stato deludente, però oggi è arrivato a 12 gole e 12 assist, non malaccio. Cassano che poi dice, date 5 giornate a Teo Hernandez, stava spaccando il cranio da Almquist, quando c'è quell'episodio, la spallata, poi uno cade a terra, l'altro cerca di andare lì sopra, gli dà un colpo però involontario, lui dice, date le 5 giornate, una ginocchiata voluta, io ho fatto il calciatore, l'ha preso, gli stava spaccando il cranio, no, non è che dici di te Bergonzi, il calciatore l'ho fatto io. Bergonzi dice, no, l'ho guardato tante volte, non è un intervento voluto. Deve tornare, far parlare di sé, mi sembra un po' eccessivo su Leao, decisamente, poi è tutto soggettivo, mi sembra, Leao si è arrabbiato molto, ha messo l'emoji del pagliaccio e mi sembra davvero fuori luogo su Teo Hernandez. Ditemi che ne pensate, commentate numerosi, lasciate un bel like, iscrivetevi da questa parte. Mi fermo qui, un abbraccio.